allora ragazzi ciao a tutti nuovo video e vi volevo far vedere un attimo il tft della ducati desert x faccio vedere un attimo cosa si può settare tantissime cose però penso che sia interessante così potete fare un'idea se volete acquistare eccetera eccetera cosa trovate quindi andiamo subito sullo schermo allora come vedete sullo schermo abbiamo le informazioni principali veramente in bella vista prima di tutto partiamo da un tft da 5 pollici messo in verticale allora cosa interessante prima di tutto vi faccio vedere al momento qua ci dice che mantiene attivo l'indicatore di direzione sinistro per accendere la luce al parcheggio quindi quando noi spegniamo se attiviamo la freccia di sinistra si accende la luce posteriore molto bella come cosa andiamo già la nostra chiave ducati desert x che appare fantastico molto molto bello quindi troviamo adesso abbiamo la mappa sport quindi vedete il quadrante come fatto qui abbiamo l'indicazione della benzina residua qua sopra abbiamo il menu alto qua abbiamo l'orario poi ovviamente contagiri marce e velocità molto fatto molto bene qua sotto che è molto interessante vedete che abbiamo vediamo se riesco a inquadrare abbiamo dvc 2 che praticamente il controllo anti wheelie ducati wheel control a 2 e la traction control a 5 la bs a 3 e poi abbiamo il controllo del freno motore a 1 questo è il settaggio diciamo di default della mappa sport che poi ovviamente possiamo andare a cambiare temperatura dell'aria 21 gradi qua sotto abbiamo il secondo menu e poi abbiamo la temperatura dell'acqua quindi devo dire che a colpo d'occhio è molto molto chiaro e mi piace molto anche se non è grandissimo come tft però vediamo tutto molto chiaramente in qualsiasi condizione di luce allora qui abbiamo il comando per andare da navigare un po i nostri i nostri menu qua abbiamo il menu impostazioni quindi vado a cliccare a destra e vedete che il menu sotto scorre vedi cancella percorso info percorso 1 no quindi vado a selezionare no e posso navigare quindi navigo vedete che questo qua praticamente il trip del mio viaggio di oggi quindi velocità media che 54 chilometri orari 3 ore 09 164 chilometri adesso non mi da più il consumo totale 664 e poi ci da anche l'autonomia 118 chilometri quindi molto bene qua sotto diciamo che abbiamo i parziali mentre se vogliamo andare al menu sopra teniamo premuta la freccia in su quindi vedete teniamo premuta la freccia in su vedete che si è appena illuminato questo quindi impostazioni crono crono possiamo attivare il nostro cronometro come dice proprio la parola vedete lo faccio partire allora on tengo premuto e lui parte vedete che qua abbiamo un cronometro diciamo che quella vellità agonistica si nota e ce la fa ce la ricorda con questi piccoli particolari adesso si stabilizza l'immagine qui andiamo stoppare il nostro cono cronometro perfetto e adesso usciamo usciamo perfetto adesso possiamo andare in impostazioni dove andiamo a settare un po tutta la nostra moto qua vedete che abbiamo modalità di guida tagliando esci ovviamente info precisione trim master unità lingua indicatori direzione calibrazione pneumatici data e ora codice pin impostazione display luci diurne indicatore carburante info di viaggio modalità di guida veramente abbiamo tantissima roba tantissima ragazzi per me è fin troppo però ducati già da tempo a è veramente settabile possiamo navigare tantissimo bisogna veramente tra un po essere laureati o starci una giornata intera per sapere tutto andiamo diciamo sulle modalità di guida che è quello che un po ci interessa modalità guida ne abbiamo sei quindi abbiamo sport urban touring wet enduro e rally allora queste mappe se andiamo poi all'interno possiamo settarce un po come vogliamo vedete che power su rally qua sotto c'è scritto pieno questa è la diciamo un po la potenza ok vedete power possiamo selezionarlo in potenza alta potenza media potenza bassa risposta del motore dinamico o morbida quindi se noi poi andiamo a cambiare vedete possiamo mettere pieno alto medio o basso come risposta del motore nella ovviamente lasciamo in alto possiamo andare a settare la bs fuoristrada o strada prestazioni stabilità possiamo andare a settare anche questo veramente super super settabile questa moto abbiamo il traction control anche lui andiamo a selezionarlo l'abbiamo su vari livelli ben otto ragazzi otto livelli sono tantissimi quindi abbiamo fuoristrada strada o bagnato possiamo selezionare se stabiliti più stabilità o più prestazioni adesso usciamo perché non ci interessa l'anti wheelie possiamo selezionare off 1 2 o 3 o 4 vedete che ci dice qua con una freccia che è molto simpatico ci fa vedere diciamo quanto ci tiene giù la ruota davanti molto carino e a 4 ovviamente è al massimo quindi è più sulla stabilità andiamo indietro andiamo a vedere il controllo del del freno motore freno al minimo freno al massimo possiamo andare a selezionarlo su tre livelli giusto ovviamente ragazzi vado a memoria perché è tantissima tantissima roba e qua invece il dqs quick shift che ce l'abbiamo o attivo o disattivo ovviamente lo lasciamo sempre attivo modalità info qua ci dice diciamo come vogliamo far apparire poi il nostro il nostro menu quando abbiamo la visuale classica noi lo lasciamo di default e andiamo indietro quindi queste sono un po le mappe e le varie regolazioni sono infinite ragazzi infinite info di viaggio qua abbiamo tutti i nostri parametri se vogliamo andare a posizionarli nel nostro menu basso ragazzi tutto con questo tasto qua perché questo qua è quello del cruise control qua abbiamo il tasto per l'abs quattro frecce abbaglianti frecce clacson poi di qua ovviamente abbiamo l'accensione manopole riscaldate quindi il menu si comanda tutto con questo qua adesso torniamo indietro vedete indicatore carburante livello autonomia possiamo mettere un po quello che vogliamo luci diurne possiamo mettere in auto possiamo metterle manuale insomma ragazzi qua c'è veramente da perdere la testa calibrazione pneumatici c'è veramente tantissima tantissima roba veramente niente comunque parlato 8 minuti quindi non è uscito un video breve era giusto per farvi dare un attimo uno sguardo un'ultima cosa andiamo a mettere la mappa spero che si veda allora adesso usciamo poi tengo premuto qua abbiamo la selezione rapida delle mappe vedete che qua sotto ci sono tutti i vari parametri power pieno dvc2 dtc5 dqs on abs 3 e and break c and break control a1 noi se andiamo a metterla in rally ok vedete con enduro vedete adesso come è cambiato il nostro display molto molto realistico vedete che qua abbiamo tipo delle note qua abbiamo in in bella vista quanto ci rimane di benzina l'autonomia residua qua ci dice che abbiamo la bs in enduro e il traction contro in enduro ce lo fa ricordare qua abbiamo le nostre specifiche con in bella vista poi anche il selezionatore l'indicatore di marcia e la velocità ovviamente se noi andiamo a premere abs in un attimo stacchiamo l'abs e ci ricorda in giallo molto visibile abs off devo dire veramente veramente bello se fosse stato leggermente più grande